ehi ragazzi mettonati un nuovo video con Brader di Filipe Edition, quinta puntata ripartiamo, abbiamo avuto dei problemi tecnici purtroppo siamo andati avanti per sbaglio e quindi 5 minuti di gioco sono saltati siamo già davanti a dei nemici, ripartiamo da qua abbiamo perso un pezzettino, ci dispiace, ci scusiamo comunque nel frattempo abbiamo recuperato un arco che fa le frecce di fuoco è successo solo questo di importante stiamo bene dall'ultima missione abbiamo preso un kit medico e ora l'ara sta bene ci vedrete con una nuova arma direttamente purtroppo abbiamo perso solo un pezzo di gioco e siamo arrivati dall'altro e siamo arrivati dall'altro in un punto in cui abbiamo anche le frecce di fuoco le abbiamo appena prese ce le ha date il pilota dell'aereo che abbiamo preso dell'aereo che è caduto sull'isola e qua non, ragazzi, è una cosa più lì sono in troppo, sono in tanti allora andiamo avanti poi chi c'è? dove è? dove è? dove è? spero che mi segue dove è? ma male che hanno messo questi barri incendiali in giro ahia siamo per modi aspetta che mi riprendo un attimo ci hanno maciullato ci hanno maciullato ragazzi ci hanno maciullato ci scusiamo ancora del problema tecnico noi qua stiamo perdendo tempo ci sono scusate le scatole veramente ma forse hai trovato un punto ma qua non c'è non l'ho volto ma sparono anche qua no? qua no ma faccio in tanti non mi sparono se no non mi sparono a me prima erano prima quella qua andiamo in forno dove è? 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 e basta ma quanti sono? sono grossi? non troppi ragazzi non riusciamo abbiamo dei problemi veramente abbiamo dei problemi non riesco niente dove è? oh ma... oh mamma mia vediamo dei problemi seri anche per me sono seri anche per me Ah, forse sono finito, dai No, però non Ma ancora Ma forza miseria, ma qual ci sono? Non si riesce E' l'ultimo? Ah, meno male, ce l'abbiamo fatto Sono finiti ragazzi Sono finiti Va bene, spero di non morire ancora Vediamo, grazie Speriamo di salvare, mamma mia Quanti cavolo erano, li avete contati? Ma, io non li ho contati Ok, andiamo avanti Scusate se abbiamo perso un coso Però, tra niente è successo che eravamo qua E non riuscivo ad andare avanti E giustamente non possiamo fare un video di 20 tentativi Eh certo ragazzi Grazie a Ivan ce l'abbiamo fatta e possiamo andare avanti Possiamo proseguire Purtroppo in questo abbiamo perso un piccolo Una piccola parte del video E vabbè Sì, ci scusiamo con i belli spettatori Però non abbiamo potuto fare Altrimenti, abbiamo perso questo pezzo No, vabbè, questo l'abbiamo preso L'abbiamo perso un pezzo prima Quello di prima l'abbiamo perso Dico, non è successo niente alla fine di un video Però, non c'è solo niente Qui c'è Pumba C'è Timone, wow In Zurich c'è Ancora Ah ragazzi, ma questo livello è solo le munizioni Eh, allora C'è fino a no, più munizioni Come le munizioni? Ce le abbiamo? Come le munizioni Ma qua c'è roba, qua c'è roba Ritornimento Qua c'è roba Oh, arriva, no, attenzione Oh, oh Eh, attenta Eh, non è in faccia Attento a questo che è l'erboca Spingilo, ecco Ok, ce ne ho mai Ok, quanti sono ancora, ma è niente Fai saltare tutto Fai saltare tutto Cosa? È pieno di barili Fai saltare tutto Ah, ok Ok, uno è andato Ok, quello, un altro barili Fai saltare tutto No, no, con l'arco non ce la posso fare No, no, con l'arco non ce la posso fare Non ce la facciamo Abbiamo più niente Solo l'arco abbiamo Ci sono, c'è una cassa lì No, con l'arco non ce la posso fare Eh, se me le fa prendere Eh, se me le fa prendere Vabbè, faccio due tentativi Eh, vabbè, dai Ci stanno spappolando Allora, c'è il piemone Allora, non ho più munizione Non posso far niente Sembra, sembra la notte di capolando Cioè, non c'è questo genere Senza, ecco Ma questo non lo puoi spingere Ok, oh, aiuto Ah, vieni, c'è ammazzato Anche te C'è ammazzato, c'è ammazzato Non riusciamo, non riusciamo Hai ragione Allora, vediamo come riusciamo A risolvere questa situazione Allora, com'è la situazione C'è uno che ci insegue con l'attento Ah, è quando ricarica Sì, sì, abbiamo capito Vediamo se adesso riusciamo, ragazzi Non è semplice Ma è semplice per niente Se pensate che sia semplice Vi sbagliate di grosso Aia Sono ferito Ah, morire, se sei ferito morire Aia Qua non fecchino Deve tenere quenti, mano Credo di aver capito perché sono tanti Ancora Come abbiamo già detto Come abbiamo già detto Prima Abbiamo messo difficoltà Difficile E noi abbiamo fatto il conto Che ne arrivano di più Sono più intelligenti E ne arrivano molti di più Ok Attenzione Ok Aia Perché c'è quando lì con l'occurso Sono in tanti Sono in tanti Sono in tanti Finiamo un po' adesso la situazione Anche da dietro E quanti cavolo siete? Sono in tanti Sono in tanti Il festival della tanticcia Qua Non lo so perché C'è il festival della tanticcia E come faccio? Sono in 150 Qua Non si riesce a fare Non c'è via di fuga Non possiamo neanche scappare Ragazzi Ma dove? Dove cavolo sono? Qua Oh Attento Via via Cerchiamo di Niente No Ancora per poco Via 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 C'è quello con lo scudo Che ci insegue da tre ore Poi mi sa che c'è qualche altro Senta mieta Senta mieta Questa è un altro Poi ce nemmo uno dietro di te Dove? Qua Ancora lui Ancora lui Basta Lasciami andare All'angolo Non si chiedere all'angolo Abbiamo solo le frecce Brutto segno Forza miseria Sono le frecce Andrà Fatti saltare con la cosa lì Starile Sto troppo lontano Sto troppo lontano Via via Datemi delle munizioni Eccole Munizioni Munizioni per il fucile a pompa Dove? Oh Che? Che? E' ancora? Era uno Eh ma ce n'è un altro Sottificano come i connigli Dai ma non è possibile Ma quanti ne hanno mai? Oh square enix Stavolta sono morto No 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 Devo scappare però Non si riesce C'è uno anche qua sopra di te Dove? Eh dietro Eh niente Questa era la prima? Sì 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 Ah la prima Forca miseria Stiamo cambiando un po' Facciamo due Ragazzi questo video verrà un genocidio praticamente Non ce la stiamo facendo Non ce la stiamo facendo Stiamo facendo schifo Attualmente Eh ma sono porchi però Eh sì sono porchi È che sono tanti Non è che sono porchi No vabbè Sono porchi solo uno Eh sono tanti No no sto qua proprio non lo posso tollerare Vieni qua Eh basta Fallo sparire No è ancora vivo Ma non è possibile È una carne di fila Ma certo È una carne di fila È la stessa cosa Chi è che mi sta dando fastidio lì? Ma c'è gente che non lo so dove che si affacciano Ma c'è barili che se pure loro li peccano Siamo noi Ah ti ho visto Attenzione Oh sono morti no soli Sono morti no soli No qua ce n'è uno però Ce n'è ancora Ce n'è ancora Dio dio Riparo Guarda dov'è Laggiù Sulla tallita Eccolo lì Vedi E' la testa Sta venendo quello con lo scudo Attenzione Chi ha pure il cappellino davanti Lo scudo è il cappellino Eh no è lui che mi dà fastidio Proprio è lui Perché ci costringe a spostarci E gli altri fanno il lavoro Dove? Qui Ah ok Ok Poi E va Sofra di uno Due E' il mio A questo dietro Quello con lo scudo Mamma mia Tutto questo con una ragazzina Oh Ma quanti sono? Ma tu sei Pezzi da qui E' incredibile E' incredibile Bambone Dai sono il troppo Non ci vuole Non ci vuole Ma è una profica puzzola Ma quanti sono Non si può Non è possibile giocare così Non è possibile ragazzi Non si può Che ci sta facendo il fuoco Ma bisogna fare con la calma Non sono 200 Non sono 200 Con la calma Con la calma Almeno non ci fosse quello con l'accudo Se non ci fosse Ah non c'è Ma perché non carica Non ricarica la pistola Ma poi Stavo andando bene Non ricarica la pistola Stai andando bene in effetti Allora il trucco è questo Sono morto 40 volte Ogni volta che gioco muoio subito Ah è morto Allora ce la facciamo Mi devi spiegare come hai fatto Spari al barile mentre arriva quello con lo scudo Ah ok Attenzione Dov'è che arrivano altri Tu puoi Sto video sta venendo Sta venendo molto lungo Ma perché siamo costretti Ma perché ho tutte le armi scariche Ma chi Lei Non importa che sparo le cariche Ah ci sono Ma devi sparrare le cariche Al contrario qua Funzione che c'è due Sono vivida Sono vivido Oh Ok A questo è andato Ok A questo è andato Ok Ce l'è ancora E' ancora la musica Quindi C'è ancora la musica Quanti sono Eh assai E' il festival Festival della tazziccia Ma poi cos'hanno con sta ragazzina Cioè non abbiamo fatto ancora niente Siamo venuti qua Sono arrivati in 40 Non hanno visto una donna In tutta la loro vita Sono ancora due a te Siamo venuti qua Aia 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 Eh va bene Brava ragazzi Sta venendo Sta venendo veramente Ragazzi Scusate Scusate Abbiamo perso un video E nel nostro ci stanno massacrando Vado al barri No Eh no ma vengono sette Eh ma loro con lo scudo è morto L'importante è uscire quello con lo scudo Sì vabbè ok La mia missione è quello con lo scudo Io me ne sto qua Io sto bravo qua Perché non mi devono rompere le palle Non fa dare a vieni a te Che pericoloso Basta sparare in testa Precisi precisi E muoio Adesso abbiamo trovato la soluzione Dov'è? C'è un codardo Hai capito male Ma c'è un altro sopra Eccolo qui Ho chiamato un pedazzo Perché Abbiamo trovato come questo è un computer No No Neanche stavolta La tattica era buona La tattica era buona La tattica era buona Eh verranno molti più vedi del previsto Perché se siamo bloccati qua No No La rete sono volte facendo Se vogliamo essere sinceri Se lo fate facendo Voi amare Accidenti no? Ok Porta Accidenti che ti lanciano i pedazzi No 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 Ma ti diciamo pure Ma certo Ti lanciano i pedazzi e ti sparano pure Ok Ok Arrivano a trovare lì Dai passi fondi Ok Stanno lì Eh ma già L'ho portito bene Ma Cioè Dai ma questi arrivano dai bassi fondi Cioè Non è Siamo All'unica del ridicolo Dobbiamo mettere a livello facile No Dobbiamo mettere a livello difficile Ma ci siamo dei professionisti Quindi dobbiamo Dobbiamo sostruire Ahia Dobbiamo sostruire Ma poi come fanno a prenderti Cioè Ti tirano la granata Ma nello stesso tempo Ti sparano Quante mani L'uomo ritroviamo Ah forse da strategia usare i bidoni Sì Oh ma che cos'è Ma dai ma non si può ragazzi Non si può Peggio di 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 No Eh Peggio di 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 Non so che cosa Allora i primi tre li abbiamo bruciati Allora E' morto pure lui Andiamo avanti Allora Ho capito questo Come fa Ho capito come fa Eh mamma mia Che cos'è Niente ragazzi Il sesto episodio E' una strage Una strage No voi ce lo state facendo No voi ce lo state facendo voi e noi E' una strage 50 contro uno Non chiuso la vecchia strategia Quale è Ah ecco Sta qui Munizioni 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 Non ce n'è qui Io non ce n'è munizioni No 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 maledetto da dietro Non vale Non vale Eh non vale Voglio dire che non vale E' incredibile E' solo una ragazzina E' ragazzina Che ci sta facendo il fuoco Ci siamo scacciati Ci siamo scacciati Ci siamo scacciati Ci siamo scacciati Ok A quello di qui ragazzi Qua mi è particolarmente antipatico Qua mi è particolarmente antipatico Qua mi è particolarmente antipatico Ecco E' andato lì Vagato la tua Sulla destra Vagato lì 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 Occhio Allora Perché tirano le frecce Non è importante Cosa quando sparano Andato Aia I denti Ce n'è un altro Si ce n'è un altro E ce ne ho più docci Sono Magnaggio Ce n'è un altro Che mi ha dato fastidio Ce n'è un altro Ce n'è un altro No Giù Sì Vabbè Vabbè Fai due Fai due Tanto l'ascoltante è che Ragazzi niente Siamo in difficoltà Siamo in difficoltà Vediamo se Sì In difficoltà pazzesca Tra l'altro Dovevo mettere forse la modalità Quanto pare la Anche l'intelligenza Della squadra Enix L'abbiamo sospettata È molto intelligente Aia Non lo vedo più Ah perché non cambia Oh Eh togli C'è stata un'esplosione È tentata un'esplosione Sì perché sono ancora Di questo Maledì Ci ricorderemo a lungo Sto livello Eh sì Allora io appena riusciamo A superare sto pezzo Lancio il bot Io li lancio Mi lancio io il bot Appena riusciamo a superare Sto livello Era l'ultimo Era l'ultimo ragazzi Era l'ultimo Era l'ultimo ragazzi Era l'ultimo Ma ce l'abbiamo fatta Oh Mamma mia ragazzi È stato dura Abbiamo perso tre quarti Della nostra esistenza Qua Guarda qua Amore L'ora siamo pieni di munizioni Ma quanti erano? Eh sai Diteci quanti erano Io non li vedevo mai Ci omicidiano dall'alto Dal Cioè ne uccidi uno E arrivava subito Subito l'altro Ma quasi spedito E nonostante questo Guerroth continua a non aiutarci Perché siamo da soldi Cioè sei qua Vieni qua Fai di qua Fai di qua Fai di qua Fai questo Fai quello Non ci aiuta Ho sbagliato di qua Ho preso un motore Ok Munizioni ci serve Munizioni Eccola qua Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare Dove dobbiamo andare? Di là Perché sono venuto di qua Allora No ma saranno finiti No sono finiti La grigetta non c'è Sono finiti Oh per fortuna sono finiti Per fortuna Allora dobbiamo arrivare là Dobbiamo andare Là Non moriamo in questo Allora se muoio o veramente No adesso veniamo a finiti tutti No Stiamo attenti Stiamo attenti Qua c'è Ahia che è oh No era previso Ancora Dai ragazzi Massa che mi fa A me era previso Penso che si può liberare Eh lo so ma Si continua a per arrivare Dai oh ma quanti sono Dai ragazzi Dai 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 No Siamo morti Non mi direi che dobbiamo riammazzare tutti Che me ne vado No me ne vado pure io Siamo morti tipo salame Siamo morti Allora non entro più là dentro Basta Eh ma devi entrare Eh no c'è la tomba Io non devo andare in forza niente Basta non ci vado Ragazzi poi è stato tolber Lasciamo perdere la tomba Basta 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 Oh siamo arrivati alla fine Qua dobbiamo arrivare Ok Cosa c'è qui Andiamo a aprire Ah no Aspetta No 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 c'è un rebus Ah Ah devi bruciare quella maniera Bruciare quella Facile Quelle Quelle C'è il focato Oh Ah ok Questa è la facile Sì però quando arrivano persone Non si capisce niente Ci maciullano così Dai Più forte È rimasto senza forza Pedro E certo ne ha uccisi 800 milioni Introduciti nel palazzo Una strage Questo più che tombale Sembrava una self-effect Basta Ancora ne arrivano Basta Introduciti nel palazzo Furtivamente Furtivamente Non credo Perché ci ha visto tutto il mondo Ci ha visto Un esercito ci hanno mandato Ci hanno mandato un esercito Ci hanno mandato la SWOT Per una ragazzina di 21 anni Di una ragazza prese dai Green Chi è Green? Ah il vecchio Quello che davete stai dalle balene Non c'è qui Mi hanno fatto andare così Perché non ho pensato alla parte Di più Se avremmo dovuto sapere È caduto niente Green Dov'è Green? Green dov'è? Dov'è Green? Il fratello Green Il fratello Green È sopra Green Green? Ragazzi chi sei Green? Forse andavamo a passare di qua Mi avevo sbagliato Green sta morendo Noi ci siamo persi di casa Ci siamo persi di casa Andavamo a passare di qua L1 La risposta mia è una stradomanda Eh mi dice di andare a evitare No c'è Green Adesso c'è un'altra via Mamma mia È quasi scivola No perché c'è la fogna Ma sali però C'è la fogna Però tu puoi salire Ah di qua si andava Dai dai Ah no Non si può andare Quasi però Va pure Va pure Ah qua No no è caduta Però se spari qua Scendi però Ah no qua c'è la sua munizione C'è un diario 24 8 Allora No se lo leggo si chiude Quindi Vabbè dai ragazzi Al massimo lo leggete voi Non possiamo stare qui Avete letto No Vabbè comunque Parla Sting È un diario di Sting Parla Sting Vabbè uno può Diamo consigliamente uno Se vuole leggere quelli Basta bloccare il video Noi non ci Noi restiamo fermi Ok Stavamo dicendo Muovi il culetto Lara Muovi il culetto Lara Muovi il culetto Lara C'è una scala Ah di qua si doveva No ancora La barbossa Che finta La barbossa Che è un bel culetto Basta questa parolacce E infatti Ma quanti sono Ancora Sono bambini qua Ragazzi In questo video È venuta È venuta una porca Una setecchia Io ho giocato Come una setecchia Sono amato 40 ore Lanciano pure l'allarme Mi tirano pure le cose Dove sono? Dove sono? Oh Ah che siamo Aspettate di tirarmi I petardi di capodanno Perché non siamo A capodanno Dai le foto Si fatte benissimo Sì però Mi tirano roba Eh si mandate Il poligono di tiro Dovete stare qua Basta Questa allarme C'è una sirena Eh quello Lì là sopra No No dai Non si può Poi è così Dai ma non dobbiamo rifare tutto Eh certo Ci mancherebbe Il problema è che sono tanti Ma quanti? Quanti? È sbilanciata la cosa Troppo sbilanciata Dai che ci rotta almeno Basta Non sto allarme C'è unissimo Uno Wisman Rotte Ma che Wisman Quello che c'ha Dove tutto allarme E' quello che attiva l'allarme Ah è lui Vedi che tu il cretino Che ti va l'allarme Oh Infatti vede tutto Tranquillo Ma insomma Non so se da più fattito Le cose che provo È quello che fa così Guarda Guarda che bellino Guarda Ah finisce Guarda che bellino Eh muore Sì Ancora E' un'altra E' un'altra E' un'altra Che cos'è Oh 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 Arriva Si incaneranno dalle funne Da quello che ho capito Sì Sto arrivando Sì Barbossa Ve l'ho detto Barbossa Chi è questa Attenzione che questo è C'è anche Junior Però c'è Non c'è Barbossa Mi tira una roba Mi fanno muovere BASTA 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 Non mi stanno tirando Che cos'è Qua sta esplodendo il mondo Ragazzi Che cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è Forse puoi buttarti tu sulla corda E andare lì Eh sì ma se vado mi maciulla Per me c'è solo una corda Quando finiscono BASTA Ancora E' due ore che mi diano roba Ancora Ancora lui Ancora non Ancora lui E' morto con la bomba E' morto con la bomba BASTA Ancora lui Quanti sono Non fate mai Questo gioco a livello difficile Non lo fate Lo facciamo noi per voi Ma non lo fate Lara Sei viva Il miracolo E gli altri Due miracoli Ancora prigionieri Ma so dove li tengo Sali qua su E andremo a salvare Non posso salire da qui Ah Verda Hanno una qualche diavoleria Per spostare i carichi Magari puoi usarla Per arrivare dall'altra parte Va bene Sto arrivando Si Ma è male Un miracolo Che stiamo vedi Due miracoli Tre miracoli Dieci miracoli Raggiungi Gringo Aspetta che raccolgo Tutte le munizioni Che poi mi dici Sicuramente Guarda Ne troviamo altri duecento Chiaramente abbiamo trovato Due mila Non duecento Due mila Ne abbiamo trovato Due mila E mi sono fatto Ma hai visto niente del genere Sono fatto le risate Io rido Quando ci succede Cioè nel senso Rido perché sono tanti È sbilanciatissimo Non mi ha visto niente del genere Sbilanciatissimo Sto sistema Assolutamente E sto cacchio di coso Allarme qua Sto coso Si si poteva far saltare Ah non puoi tirare Si si può Sto schifo di coso Guarda Sti pezza Gli allarme Allora Andiamo con calmo Stira sbloccato Uno su quattro Allarme disattivare Allora dobbiamo prendere Questa specie di carrucola E arrivare Da uno dei due fratelli Grimm L'altro non lo so che fine ha fatto Andiamo Ancora Dai È una cosa continua Sono tutti qua Ma questo è semplice Vai Vai Dai Non è ancora Ancora ce l'è Guarda No Vai Sì Sono dovuto scendere prima Perché ce l'ho E non l'avevi Siamo qua Scendi Non è ancora la punizione mamma mia ragazza chi è l'italia no era meglio non sapere no ah è entrato in pausa non ce lo stavo spalando sono qua sopra sono due delinquenteri io faccio la pista che sono qui si muovono oh ma fanno apposta se tu non vai loro non vengono no certo eh no certo il cavolo super eh qua non finiamo più vedi io ne manco appeso di cosa la moglie è un avancatico il trucco però sono morto eh ancora evitato c'è un altro non so dove caspitego su qui adesso lo va è rotto che non è morto tra l'altro spargì ah non è morto oh mamma mia ancora attraverso le palle li ho ucciso attenzione oh no oh no oh no oh no il tempo non spara tutto non sembra un'altra cosa ma mi trovo tu guarda quanti sono eh veramente oh oh qua vediamo sta base montana veramente c'è una tomba segreta ma per ora la stiamo aperta la tomba sarebbe lì si ma non andava no non è qui ah è qui mi serve allora dove andiamo a proseguire oh se ci fanno proseguire se ci fanno proseguire se ci fanno nooo ma chi era questo da dove è arrivato vabbè ormai continua che stiamo arrivando alla fine eh certo mancherebbe mancherebbe attenzione che sono tanti però si troppo tanti troppo wow c'è niente di poco vediamo bianco quello lì è morto ancora non ma che ok guarda guarda come si sposta con due frecce conficcate nel nel suo corpo riesce ancora a muoversi con un ucce piatto ma com'è possibile questo eh non lo so oi come è possibile altro ciò non lo so la scienza non sa lo chiede eh l'intelligenza artificiale gli ha dato anche la resistenza com'è sono più intelligenti ma anche più più resistenti ce n'è più un doping oi fan era l'ultimo questo è quattrocenti ci fanno per l'alba non va se cadere vicino l'abbiamo visto prima ma ora dobbiamo aspettare la cassa con la sua velocità riprendiamoci un attimo da questo shop no ecco no siamo distratto non l'avevo vista e vabbè perchè arrivano anche da lì arrivano da lì sì forse saltando sì sì però devo aspettare che gira vabbè che fai ho visto c'è un cadale a depredare fa tempo che gira ora torna no? sì ora torna quindi salvo che non vuoi stare no no aspetta no 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 queste sono quelle che tornano devo aspettare quella che vorrebbe avviare ok eh aspetta che ho visto un'altra cosa no che vuole ah sì posso via puoi salire sì sì dove si va qua? boh vai vediamo vediamo dove si va? dove si va? dove si va? nessuna parte non è possibile sui tetti ah c'era qualcosa infatti qualcosa un gps c'è qualcosa poi si va a scendere dove siamo saliti eh come sei salito dove siamo saliti scendiamo dove siamo saliti scendiamo dovresti andare hai preso i punti all'accampamento sì no abbiamo fatto ah ok si può scendere ok ragazzi direi di fermarci qua per questo sesto episodio anche perché ci hanno maciullato quindi direi di fermarci qui ah ok direi di fermarci qui siamo qui con il nostro amico sempre felici e contenti ecco qua ok ecco così così è ancora meglio ah ok ragazzi è stato un piacere grazie di averci seguito in questo sesto video ricordate di iscrivervi al canale mettere un like lasciare un commento e seguirci su Instagram e Facebook ok ciao a tutti ciao a tutti al prossimo video ciao